Sono tre le parole che hanno guidato la riflessione del Papa nell'Omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta. Tre parole per disegnare la Chiesa ed ispirate dal brano degli Atti degli Apostoli nel quale si narra di Filippo e dell'Etiope. Francesco è partito dallo Spirito, dall'angelo che esorta Filippo ad andare perché la Chiesa è chiamata per vocazione ad evangelizzare, perché deve essere in piedi e in cammino senza rischiare di ammalarsi chiudendosi. E la Chiesa, sulla scia del vai avanti detto dallo Spirito a Filippo, deve essere comunque in ascolto delle inquietudini. Cosa sente la gente, ha affermato il Papa, cosa sente il cuore di questa gente, cosa pensa, per capire bene dov'è l'inquietudine che tutti abbiamo dentro. Infine la gioia perché con la grazia dello Spirito Santo il Signore conferma la parola con i segni. La Chiesa Madre che dà alla luce tanti figli con questo metodo, diciamo, usiamo la parola, questo metodo che non è proselitista, è il metodo della testimonianza all'ovvedienza. La Chiesa che oggi ci dice gioisce, gioisce, la gioia, la gioia di essere cristiani. Anche nei brutti momenti, perché dopo la lapidazione di Stefano scoprì una grande persecuzione e i cristiani si sparsero dappertutto. Come il seme che porta il vento, sono stati loro a predicare la parola di Gesù. Che il Signore ci dia la grazia a tutti noi di vivere la Chiesa così, in piedi e in uscita, in ascolto delle inquietudini della gente e sempre in gioia. Grazie a tutti.